Siamo qui come lettori, vedete qui sul pianoforte ho messo tutti i libri che leggeremo ininterrottamente per un mese, quindi ora voi telefonate a casa, non tornate perché li leggiamo tutti dall'inizio alla fine. Ma per introdurre l'argomento di stasera, ovvero l'attesa della rivoluzione, perché noi faremo tre incontri, il secondo sarà le voci della rivoluzione e il terzo è stata una rivoluzione. Punto interrogativo o punto esclamativo? Punto interrogativo. Vorrei introdurre, siccome non abbiate l'idea che sia una serata un po' troppo da intellettuali, vorrei partire subito, lontano dai luoghi comuni, con il video che ci introduce alla serata di stasera. Con vivo e ammari potevo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cieco-slovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate? Fermi tutti! In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Kotjongkin. Grazie. Allora, sapete quanto dura la corazzata Kotjongkin? Il film, quello vero di Eisenstein del 27, 70 minuti. Noi italiani ci siamo costruiti nell'immaginario, grazie al grande Paolo Villaggio, infatti la corazzata Kotjongkin dura delle ore. Sono tanti 70 minuti se si considera il cinema del 27. Sono tanti. Mi serve perché poi alla fine concluderemo con un pezzettino proprio della corazzata Kotjongkin e lì non potrete assolutamente andare via e dura 70 minuti. Sarà una notte lunga, ecco, vi volevo dire questo. Dobbiamo arrivare al 6 di novembre quando c'è la presa del Palazzo d'Inverno. Tutto l'idea di questo incontro in cui parleremo di libri, io non ho nessuna percentuale sui libri che ho qui, vi assicuro, però vi suggerirò dei libri perché siamo al circolo dei lettori, quindi parleremo di libri, parte da un libro di uno studioso che io credo sia forse la persona più intelligente del mondo che si chiama George Steiner. Qualche anno fa George Steiner ha scritto un saggio che si intitola Una certa idea di Europa, nel quale lui dice che i paesi europei si contraddistinguono per cinque caratteri comuni. Il primo, la presenza dei caffè. Pensate, Lienin, al caffè centrale di Vienna, che scrive, il fatto che tutta Europa è stata percorsa a piedi, non ci sono deserti, non ci sono foreste invalicabili, tutto, anche Monte Bianco è tutto stato percorsa a piedi. Il terzo criterio è che le strade delle nostre città hanno delle lapidi nelle quali vengono ricordati eventi o personaggi storici, mentre per esempio in America c'è via del Tiglio, poi strada 1, 2, 3, 4, 5, 6, eccetera. Il quarto criterio è che siamo eredi di Atene e di Gerusalemme. Il quinto criterio è che noi, sin dalla nostra nascita, parliamo dei grandi tragici greci, della cultura greca, quindi quinto secolo avanti Cristo, siamo convinti che l'Europa sia in via di decadenza. Da quei tempi lì, giuro, lo dice Stein, non io, è molto intelligente, è ancora vivo, credo ci abbia 130 anni, ma è ancora vivo. Quando accenna al nostro, diciamo a quanto dobbiamo alla cultura ebraica, c'è una riga, mezza riga, che dice non è possibile capire Carlo Marx se non leggiamo il profeta Geremia e il profeta Amos. Ora a me questa cosa mi ha fatto un pochino specie, non perché io sia particolarmente legato a Carlo Marx, ma perché, e poi George Steiner è veramente una persona intelligente. Allora, da bravo studentello, sono andato a leggere il manifesto del Partito Comunista. Voi sapete che Lenin, quando fonda il Partito Socialdemocratico, si rifà direttamente a Carlo Marx e il suo bambino, dice che è fantastico, eccetera, eccetera, anche se poi la rivoluzione russa si basa su un paradosso, perché la cosiddetta fase capitalistica borghese in Russia non c'è. Ed è la scelta del partito bolshevico e vedremo che il marxismo di Lenin è un marxismo veramente un po' particolare, perché deve tantissimo, tantissimo, Figes dice addirittura tutto alla tradizione russa e non c'entra nulla a Carlo Marx, però lui lo cita. E allora, prego Stefano, lui si chiama Stefano e io mi chiamo Daniele. La borghesia ha avuto nella storia una funzione sommamente rivoluzionaria, dove giunta al potere essa ha distrutto tutte le condizioni di vita feudali, patriarcali, idilliache. Essa ha lacerato senza pietà i variopinti legami che nella società feudale avvincevano l'uomo ai suoi superiori naturali e non ha lasciato tra uomo e uomo altro vincolo che il nudo interesse, lo spietato pagamento in contanti. Essa ha affogato nell'acqua gelida del calcolo egoistico i santi fremiti dell'esaltazione religiosa, dell'entusiasmo cavalleresco, della sentimentalità piccolo-borghese. Ha fatto della dignità personale una semplice valore di scambio e il luogo delle innumerevoli franchigie, faticosamente acquisite e patentate, ha posto la sola libertà di commercio senza scrupoli. In una parola, al posto dello sfruttamento velato da illusioni religiose e politiche, ha messo lo sfruttamento aperto, senza pudori, diretto e arido. La borghesia ha spogliato della loro aureola tutte quelle attività che per l'innanzi erano considerate degne di venerazione e di rispetto. Ha trasformato il medico, il giurista, il prete, il poeta, lo scienziato in suoi operai salariati. La borghesia ha strappato il velo di tenero sentimentalismo che avvolgeva i rapporti di famiglia e li ha ridotti a un semplice rapporto di denari. La borghesia, messo in chiaro come la brutale manifestazione di forza che i reazionari tanto ammirano nel Medioevo, avesse il suo appropriato completamento nella più infingarda poltroneria. Essa per prima ha mostrato cosa possa essere l'attività umana. Ha creato ben altre meraviglie che le piramidi d'Egitto, gli acquedotti romani e le cattedali gotiche. Essa ha fatto ben altre spedizioni che le migrazioni dei popoli e le crociate. La borghesia non può esistere senza rivoluzionare di continuo gli strumenti di produzione, quindi i rapporti di produzione, quindi tutto l'insieme dei rapporti sociali. Prima condizione di esistenza di tutte le classi industriali precedenti era invece l'immutata conservazione dell'antico modo di produzione. Il continuo rivoluzionamento della produzione, l'incessante scuotimento di tutte le condizioni sociali, l'incertezza e il movimento eterni contraddistinguono l'epoca borghese da tutte le altre. Tutte le stabili e arrugginite condizioni di vita, con il loro seguito di opinioni e credenze rese venerabili dall'età, si dissolvono e le nuove invecchiano prima ancora di aver potuto fare le ossa. Tutto ciò che vi era di stabilito e di rispondente ai vari ordini sociali si svapora. Ogni cosa sacra viene sconsacrata e gli uomini sono finalmente costretti a considerare con occhi liberi da ogni illusione la loro posizione nella vita, i rapporti reciproci. Se voi pensate a Geremia, effettivamente togliete borghesia, cimertete il popolo ebraico, siamo lì. Il tono di denuncia e di violenza è quello. Noi siamo, diciamo, quando parliamo di Marx parliamo dell'analisi scientifica della realtà, dell'economista, ma invece è un grande visionario e per esempio, oltre alla denuncia degli sfaceli che ha fatto la borghesia, ecco che invece c'ha un altro registro ed è quello apocalittico. Non vi dimenticate che, e qui si comincia a parlare del nostro argomento, i rivoluzionari, i personaggi per esempio dei demoni di Dostoevsky girano con l'apocalisse in tasca. Noi abbiamo a che fare con un populismo che è proprio un movimento tipico dei russi che vanno con il Vangelo in mano. Addirittura gli stessi bolscevichi che non hanno una grande simpatia per le campagne, perché in campagna si sa, con la teoria delle aree laterali, i contadini sono arretrati, arriveranno a far assimilare Lenin a Gesù Cristo. Siccome nel 18 lui riceve un attentato e non muore, viene santificato addirittura. Quando nel corso dell'evoluzione le differenze di classe saranno sparite e tutta la produzione sarà concentrata nelle mani degli individui associati, il potere pubblico perderà il carattere politico. Il potere politico, nel senso proprio della parola, è il potere organizzato di una classe per l'oppressione di un'altra. Se il proletariato nella lotta contro la borghesia si costituisce necessariamente in classe e per mezzo della rivoluzione trasforma se stesso in classe dominante e, come tale, distrugge violentemente i vecchi rapporti di produzione, esso abolisce insieme con questi rapporti di produzione anche le condizioni d'esistenza dell'antagonismo di classe e le classi in generale e quindi anche il suo proprio dominio di classe. Al posto della vecchia società borghese, con le sue classi e con i suoi antagonismi di classe, subentra un'associazione nella quale il libero sviluppo di ciascuno è la condizione per il libero sviluppo di tutti. Todorov parla di messianesimo, ovvero una proiezione messianica di quello che succederà quando la borghesia verrà spazzata via. Esiste anche un monumento dove c'è scritto che il marxismo non può essere contestato perché è la verità. Quindi la visione di una società giusta, di una società nella quale non ci sono le classi, vedo fra di voi alcuni commossi, non è ancora il momento, lo so, non lo dice a me, vengo da una città nella quale la gente piange ancora per la strada, anche perché dopo abbiamo i nostri problemi, voi lo capite dal mio modo di parlare, che ci sentiamo anche responsabili nelle vostre confronti, poverini. Non ne parliamo. Lo so, lo so, non è simpatico, non è simpatico, però quello fa se è convento, no? C'è anche di peggio, abbiamo visto di peggio, ora non so come la pensate voi, noi l'abbiamo dichiarato subito come la pensiamo, quindi io li leggerei, se non è dispiace di te, un pezzettino di Geremia, pezzettino. Chi mi darà nel deserto un rifugio per viandanti? Lascerei il mio popolo e mi allontanerei perché sono tutti adulteri, una massa di traditori, tendono la lingua come il loro arco, non la verità ma la menzogna domina nella terra, passano da un delitto all'altro e non conoscono me, oracolo del Signore. Ognuno si guardi dal suo prossimo, non fidatevi neppure del fratello, perché ogni fratello inganna come Giacobbe e ogni amico, va spargendo calugne, ognuno si beffa del suo prossimo, nessuno dice la verità, hanno addestrato la lingua a dire menzogne, angheria su angheria, inganno su inganno, rifiutamo di conoscermi. Nell'Apocalisse si dice che quando la Gerusalemme celeste scenderà tutti saranno contenti e questo ci fa molto piacere, ma l'acqua gratuitamente verrà data agli assetati. E colui che sedeva sul trono disse ecco io faccio nuove tutte le cose e soggiunse scrivi perché queste sono parole certe e vere e mi disse ecco sono compiute, io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine, a colui che ha sete io darò gratuitamente da bere alla fonte dell'acqua della vita. Certo se entra un'ora mentre legge questa roba dice ho sbagliato serata, secondo me c'è il catechismo per gli adulti e bella è festa finita, ma va bene lo stesso. Queste parole a me lettore mi fanno echeggiare qualcos'altro, prego. Per prima fiorì l'età dell'oro spontaneamente senza bisogno di giustizieri, senza bisogno di leggi, si onoravano la lealtà e la rettitudine. Non c'erano pene a incutere paura, né parole minacciose si leggevano su tavole di bronzo, né gente implorante e clemenza temeva le labbra del giudice ma tutti vivevano sicuri senza che alcuno li tutelasse. Subentrò l'era dell'argento, più scadente dell'oro ma di pregio maggiore del fulvo bronzo. Giove ridusse la durata originaria della primavera e fece scorrere l'anno attraverso l'inverno, estate e in costante autunno e primavera breve, le quattro stagioni. Seguì per terza l'età del bronzo, di indole più crudele e più pronta ad usare le orribili arme, scellerata però non ancora. L'ultima fu quella del ferro duro, d'improvviso in quest'epoca di tempra peggiore, irruppe da ogni empietà, fuggirono il pudore, la sincerità e la lealtà e al loro posto subentrarono le frodi e gli inganni e le insidie e la violenza e il gusto sciagurato di possedere. Il gusto sciagurato di possedere. Sono le metamorfosi di Ovidio, non è né Carlo Mars né gli Ego. C'è un punto che si sta enucleando, è questo problema della proprietà, che è un tema centrale nel comunismo, scusate se mi permetto, non voglio dire che viene preso direttamente da qui, voglio dire semplicemente che lo stesso Engels quando parla della storia, del passaggio del socialismo utopistico al comunismo scientifico cita, cita questa lunghissima tradizione contraria alla proprietà privata che passa attraverso altri testi, alcuni famosi, quelli dei socialisti utopisti francesi, altri che sinceramente a me mi sono sembrati anche abbastanza strani, ma io sono andato a controllare. Per esempio l'utopia di Thomas More, è un testo del Cinquecento, Thomas More è amico di Erasmo da Rotterdam e individua nel comunismo dei primi cristiani quello da seguire, non solo, Tommaso Campanella, un povero Cristo che è stato in galera ventott'anni, ventott'anni, un frate che pensa a un'utopia, a una città del sole nella quale ognuno riceve quello di cui ha bisogno. Questa l'ho già sentita. Sì, anch'io l'ho già sentita, non recentemente, ma un po' di anni fa, negli anni Sessanta l'ho sentita. E arriviamo a uno di quelli che poi è anche uno dei padri della rivoluzione francese, Rousseau. Rousseau parla esattamente di questo, il problema della disparità nel saggio sulla disuguaglianza, 1754, Rousseau dice quanto segue. Finché gli uomini si contentarono delle loro capanne rustiche, finché si limitarono a cucire le loro vesti di pelli con spine di vegetali o con lische di pesce, a ornarsi di piume conchiglia, dipingersi il corpo con diversi colori, a perfezionare e abbellire i loro archi e le loro frecce, a tagliare con pietre a guzze, canotti da pesca o qualche rozzo strumento musicale in una parola. Finché si dedicarono ai lavori che uno poteva fare da solo, finché praticarono arti per cui non si richiedeva il concorso di più mani, vissero liberi, sani, buoni, felici, quanto potevano esserlo per la loro natura, continuando a godere tra loro le gioie dei rapporti indipendenti. Ma nel momento stesso in cui un uomo ebbe bisogno dell'aiuto di un altro, da quando ci si accorse che era utile a uno solo aver provviste per due, l'uguaglianza scomparve. Fu introdotta la proprietà, il lavoro diventò necessario e le vaste foreste si trasformarono in campagne ridenti che dovevano essere bagnate dal sudore degli uomini e dove presto si videro germogliare e crescere con le messi la schiavitù e la miseria. Passiamo alla Russia. La Russia ha una potenza gigantesca potenzialmente, in realtà è un paese arretratissimo, si sta parlando dell'Ottocento, dopo Nicola I ci sono stati momenti di grande repressione in moto dei decabristi. Prima data fondamentale, 1861 viene abolita la servitù della gleba, è una riforma insieme a altre riforme, fino a metà degli anni Sessanta in Russia si fanno queste riforme, la riforma della giustizia, dell'università, sono riforme che però non hanno successo, soprattutto perché la servitù della gleba viene liberata ma viene costretta ad acquistare la terra a dei prezzi assolutamente fuori mercato, non hanno i soldi, quindi gli appezzamenti di terra tornano in mano come sempre ai soliti ricchi e in più quindi i poveri hanno perso la rete sociale dei loro rapporti e hanno perso completamente la gestione comunitaria, che è una gestione che viene da lontanissimo perché c'erano queste comunità contadine che ovviamente erano trattate in maniera orrenda, erano ritenuti dei beni mobili, venivano venduti anche separati separatamente, venivano costretti a fare il servizio militare ed erano tanti anni di servizio militare, non 18 mesi o 12 mesi, erano anni, anni e anni. Il servizio civile era sconosciuto. Il servizio civile era sconosciuto, anche quello nazionale, anche quello regionale, ma cosa voglio dire? Che a partire da Gogol, per esempio, 1842, le anime morte, voi vi ricorderete la trama, siamo lettori tutti, un piccolo gruppo di lettori, le anime morte si basa su una truffa, no? Cioè Chichikov compra da dei latifondisti le anime che sono morte e quindi che nel censimento successivo sarebbero dovute essere dichiarate morte, le compra prima, li evita quindi al padrone di pagare le tasse e poi chiederà dei soldi, le ipoteca. È un primo romanzo che in teoria avrebbe dovuto avere due altri libri perché, come nella Divina Commedia, dall'inferno bisognava passare al Purgatorio e poi al Paradiso. Poi Gogol ha avuto tutta la sua svolta mistica, eccetera, si è lasciato morire, ma questo è un altro discorso. Volevo introdurre qui altri due o tre elementi. Il primo, la burocrazia è uno dei grandi nemici del popolo russo e Gogol se ne fa beffe con l'ispettore generale, non so se vi ricordate, l'ispettore generale è un racconto che fa morire da ridere, è la storia di un poveraccio che non ha nemmeno da mangiare, che a un certo punto è in un piccolo paese, arriva la voce che c'è un ispettore generale da San Pietroburgo e lui non solo si fa pagare, si fa alloggiare, eccetera, ma uno per volta tutti i maggiorenti della cittadina vanno lì e gli chiedono di chiudere un occhio sulle loro malefatte e pagano. Lui va via, pieno di soldi, nell'ultimo atto viene annunciato l'arrivo dell'ispettore generale vero, lui ha preso in giro tutto questo paese e si è riempito i soldi, che è proprio il burocrati tipico della Russia alzarista, ma nelle anime morte c'è un passo che mi serve per introdurre questa mitizzazione assoluta che c'è in Russia del popolo russo. Anche uno come Herzen che vive all'estero mitizza il popolo russo, soprattutto i contadini russi. Prego. Terra di Russia, terra di Russia, io ti vedo dalla mia incantevole e meravigliosa lontananza, io ti vedo, tutto è povero in te, disordinato, inospitale, non rallegrano, non atterriscono lo sguardo, gli arditi miracoli della natura, coronati dagli arditi miracoli dell'arte, le città con gli alti castelli, dalle mille finestre radicati sui dirupi, le pittoresche piante ed edere radicate sulle case, tra lo scroscio e l'eterno vaporio delle cascate. Non si rovescia indietro la testa a guardare il sovrapporsi senza fine nelle altezze dei blocchi di pietra. Non brillano attraverso gli oscuri archi gettati uno sull'altro, rivestiti di tralci di vite ed edere e di milioni e milioni di rose selvatiche. Non brillano in lontananza gli eterni profili dei monti radiosi, alzati agli argenti e i limpidi cieli. Tutto è aperto, desolato, è uniforme in te, come piccoli punti, come piccoli segni visibili appena. Spiccano tra le distese le piatte tue città, nulla che accarezzi o che affascini lo sguardo. Ma che inaccessibile forza è dunque questa che attira a te? Perché riecheggia e di continuo risuona nell'orecchio malinconica, come si diffonde su tutta l'ampiezza tua, da mare a mare, la tua canzone? Che c'è in essa, in codesta canzone? Che cosa chiama così e si inghiozza e afferra il cuore? E ancora, pieno di stupore, rimango in moto e già sul capo l'ombra di una nube miracciosa, gravida di piogge incombenti, e il pensiero ammutolisce dinanzi alla tua vastità illimitata. Forse qui, forse in te, sorgerà uno sconfinato pensiero, già che tu stessa sei senza fine. Non potrebbe aver qui, l'avvento, un eroe gigante, già che c'è spazio abbastanza perché si sviluppi e si muova, e minacciosamente mi abbraccia la possente vastità, riverberandosi con terribile forza nel profondo del mio essere. D'una potenza arcana si illuminano i miei occhi, o sfolgorante, fascinosa e ignota, al mondo sconfinatezza, terra di Russia. È un mito, il mito del contadino russo, il mito del popolo russo. Sembra di vedere questo gigante enorme, incatenato, che sta per partire. Chi è che crede nella capacità del popolo russo di sollevarsi è Cernisevsky. Questo titolo, Che fare, vi dovrebbe far risonare in mente qualcos'altro. È lo stesso titolo di un altro libro, di un certo Lienin, che si intitola proprio Che fare. È un libro brutto, si può dire un libro brutto, ma è un libro fondamentale perché quando esce nel 1862 frutta al suo, anzi scusate, viene scritto nella fortezza di Santi Pietri e Paolo che era il carcere di San Pietroburgo. Non so se qualcuno di voi è stato San Pietroburgo, è nell'isoletta proprio di fronte, dietro al Palazzo d'Inverno. Questo libro è un libro fondamentale. Ripeto, la citazione di Lienin nel titolo riconosce l'importanza di questo libro. È un libro che non esiste quasi più, non si trova quasi più, forse questo vedete? C'è una unica coppia. C'è una io e basta. Lo metto davanti alla Bibbia. E sono sei mesi e ce l'hai. Ce l'ho sei mesi, infatti ho il carabiniere in casa. E che cosa dice? Due cose fondamentali. La prima, la parità di genere. Cioè per la prima volta un romanziere scrive che un rapporto d'amore non può essere un rapporto di possesso, ma è la libera scelta di un uomo e di una donna che condividono degli ideali. Se poi c'è il sesso, meglio. Se non c'è, chi se ne frega? Perché lei poi si innamora di un'altra persona e lui, non ci crede nessuno, però tranquillamente, serenamente dice amore vai. E questa è la parte utofistica. E per questo il libro è brutto, perché non è vero. Dopo l'utofia di Thomas More parliamo dell'utofia dei rapporti di coppia in questa maniera. Ma questo è il primo punto. Il secondo punto, state a sentire, la protagonista, Vera, mette in piedi una fabbrica di una camiceria e sentite cosa dice. Poi capite come mai l'hanno messo in galera questo. Prego. finito il mese, Vera si presentò allora consueta nel laboratorio con in mano un suo libro di conti e pregò le operaie di sospendere il lavoro e di stare bene attenti a quanto aveva loro da dire. Disse cose semplici, intellegibili, ma che le cucitrici non avevano mai udito prima. Adesso ci conosciamo bene, io vi so buone operaie, né voi direte di me che sono una sciocca. Ma è dunque lecito esprimervi franca le mie idee. Se alla prima vi sembreranno strane, pensateci un poco e non le condannate subito. Ecco dunque. Dicono i buoni che è possibile fondare delle officine di cucito dove le condizioni della mano d'opera siano più vantaggiose di quelle che tutti sappiamo. Io ho voluto provare. Voi riceverete regolarmente la vostra paga. Ora vi dirò qual è stato il mio profitto. Lesse sfogliando i conti. Vedete bene che a me avanza sempre una discreta somma. Che cosa farne? Ecco la questione. Io ho messo sull'officina avendo in animo che anche questo profitto fosse distribuito fra le operaie che lo avevano prodotto. Per questa prima volta lo distribuisco in parti uguali. Vedremo in seguito se potremo far di meglio nell'interesse di tutti. Le operaie, sbalorditesi, profusero in ringraziamenti. Adesso lasciate che vi dica la cosa più difficile di tutte. Perché non ho tenuto per me questi denari? Con quale scopo impiantare un'officina senza trarne profitto? Mio marito ed io, voi lo sapete, non siamo gente ricca, ma grazie a Dio non si muore di fame. Semmai egli è tal uomo da trovare modo e maniera di guadagnare due volte. E se non lo fa vuol dire che i denari guadagnati ci bastano. Vi è che la mia passione per i denari non è grande. Voi sapete che le passioni sono varie, chiama il gioco, il ballo, il lusso e ciascuno per sua passione è pronto a rovinarsi. E spesso si rovina senza che qualcuno ne stupisca. La passione ha dunque più valore del denaro. Ora, la mia passione è questa, di provarmi a lavorare con voi e sono più che ricompensata dal fatto che non ne cavo un compenso. Niente di strano secondo me. Chi è che riscuote una rendita delle sue passioni. La gente buona e illuminata ha scritto molto per dire come sa da vivere, perché tutti si viva bene. E il punto capitale, al loro modo di vedere, è l'organizzazione nuova del lavoro. Questo per l'appunto io voglio provare con voi. Certo, sarebbe già un bel fatto se tutti i mesi ci ripartissimo i profitti, ma si può far di meglio, dicono. Vedremo. Io vi dirò via via che le riforme è da introdurre e voi stesse noterete quel che si può fare. Badate in ogni modo che nulla farò di nuovo senza il vostro concorso. Siete voi che dovete volere ed esprimere la vostra volontà. Se no, no. Ecco ora l'ultima disposizione. Voi vedete che è indispensabile portare i conti. Per un mese li ho portati da me, ora domando il vostro aiuto. Due da voi che mi siano compagni e si tratta di dannare i vostri. Chi è più brava si provi. Dopo una settimana vedete se si debba mutare o confermare l'incarico a quelle che l'hanno assunto la prima volta. Le operaie scelte con gran cura erano anche cointeressate all'impresa, perciò questa andava a gonfie vele. La clientela fluiva e si manteneva costante. Dopo un anno e mezzo fu necessario portare le cucitrici a venti e poi anche a maggior numero. È chiaro che ovviamente no? Se manca solo la musichina dei violini è una visione piuttosto di liaca. Il sogno vera verso la fine del romanzo fa questo sogno. Un immenso edificio si eleva in una pianura dalla vegetazione lussureggiante. Allo scheletro di ferro, le pareti di cristallo, è circondato ad ogni piano da spaziosi gallerie, ai soffitti e ai pavimenti di alluminio. Questo dettaglio, io ho una lotta personale contro l'alluminio anodizzato, voi sapete Woody Allen lo mette nell'inferno l'inventore dell'alluminio anodizzato, ma questo è un problema mio. Dappertutto piante e fiori in gran copia, un grandioso giardino d'inverno. Gruppi di gente sono nei prati, uomini e donne, vecchi, giovani, fanciulli, tutti insieme, ma più numerosa è la gioventù. Pochi vecchi, non mi chiedete che fine hanno fatto i vecchi, non è dato sapere. Pochissime vecchie, strano, però peggio. Strano, perché di solito l'aspettativa di vita è, vabbè, più della metà dei fanciulli è nell'interno dell'edificio ed attende alle cure domestiche. I gruppi mietono e cantano, ripeto, mietono e cantano. Pensate alla Russia del 1862, povere stelline. E per questo l'hanno messo in galera. L'hanno messo in galera, vent'anni è stato in galera questo povero Cristo, veramente, vent'anni. Anche perché molti di questi personaggi venivano arrestati non soltanto se si macchiavano di qualche delitto, spesso andavano la domenica a fare le scuole per gli adulti, no? Questa famosa andare al popolo, non so se vi ricorda qualcosa, andare al popolo. Facevano scuola agli adulti e quasi sempre insegnavano a leggere, a scrivere e come quasi sempre succede in certi tipi di regimi, quando uno impara a leggere e a scrivere diventa pericolosissimo. Venivano mandati in Siberia. Vi segnalo che un editore di cui non posso fare il nome, la Delphi, ha ripubblicato da poco l'isola di Sakhalin di Anton Chekhov. Anton Chekhov è uno scrittore gigantesco, probabilmente, poi parleremo di Turgenev, che poverino, non ha avuto nessuna storia perché Dostoevsky, Tolstoy e Chekhov l'hanno massacrato. Però è stato un grande Chekhov, era un medico e come medico, pensate, è stato uno dei collaboratori all'estensione del primo censimento della Russia. Questo è un rendiconto del suo viaggio nell'isola di Sakhalin. C'entra col nostro argomento perché nell'isola di Sakhalin poi verranno aperti qualche gulag, diciamo qualche gulag. Questo ci porta inevitabilmente a un altro video. Prego, il numero due. Per introdurre un nuovo personaggio, che è quello dei nichilisti. Drugo non è in casa. Lasciate un messaggio dopo il bip. Avete un minuto. Signor Lebowski, sono l'agente Rolva, del dipartimento di polizia di Los Angeles. Abbiamo ritrovato il suo veicolo. Può rivoltersi al deposito giudiziario di North Hollywood. Fantastico, questa è una bella notizia. Eccolo lì, la vasca da pagno. Ehi, signori, questa è una residenza privata. Si fa il bagno e il porco. Ora gli diamo noi una pulitina. Ah, bella la marmotta. Oh, bella la marmotta. Vogliamo i nostri soldi, le bosche. Tiratela via, basta con gli scherzi. Secondo te stiamo scherzando? O abbiamo voglia di sopportare i tuoi scherzi? Possiamo farti cose che non hai mai neanche sognato. Non crediamo in niente. Non crediamo in niente, le bosche, in niente. E domani torneremo a tagliarti il cetriolo. Il mio... Mi scusi? Ho detto che ti tagliamo il cetriolo. Consiglio di pensarci su, le bosche. Sì, tuo bebi salino pennulo. Magari ci passiamo sopra il... Ora, è un modo elegante per introdurre uno dei grandi fenomeni russi, tipicamente russi, che è il nichilismo. La parola deriva da nichil in latino vuol dire niente. Nella versione russa vuol dire tutti i mezzi sono validi per arrivare a un certo obiettivo e non credono assolutamente niente. L'importante è disorganizzare, distruggere, rompere il meccanismo statalista dello stato, scusate, zarista, un lapsus freudiano. Il termine appare per la prima volta in un romanzo molto famoso. È Padre e figli di Surghieniof, che esce nel 1863. Prego. È nichilista. Che cosa? È nichilista, nichilista. Deve venire dal latino nichil, per quanto io possa giudicare? Nichil? Niente. Forse con contesto appellativo si vuole indicare un uomo il quale che non riconosce niente? Di meglio, che niente rispetta. Cioè, osservò Arcadi, un uomo che guarda ogni cosa da un punto di vista critico e non torna allo stesso forse, domandò Pavel. No, non è mica lo stesso. Il nichilista è un uomo che non si piega a nessuna specie, nessuna specie di autorità, che nessun principio accetta per fede, per quanto questo principio abbia credito e culto fra la gente. E ti pare una bella cosa? Viene su Pavel. Secondo le persone, caro zio, gli unici trovano il fatto loro, gli altri no. Bravo. Vedo però che cotesto non c'entra in capo a noi altri, noi gente all'antica, noi reputiamo che senza principi, senza principi accettati per fede, come dici tu. Non si va avanti, non si arriva. Vos avez changé tous et là, e che Dio vi console e vi prosperi. Noi ci contenteremo di ammirarvi, cari miei, come si dice, nichilisti, sicuro. Prima c'erano gli hegeliani, adesso ci sono i nichilisti, staremo a vedere come farete a vivere nel vuoto, nel nulla, senza aria respirabile. Adesso, caro Nicolai, fammi la cortesia di suonare, è l'ora del mio cioccolato. Pavel Petrovic alzò le mani in atto di rinuncia. Dopo di ciò non vi capisco più, voi insultate il popolo russo. Io non intendo come sia possibile non riconoscere dei principi, delle norme, in forza di che dunque agite voi. Ve l'ho già detto, zio. Entrò di mezzo Arcadi, che non riconosciamo autorità. Noi, pronunciò Basarov, agiamo in forza di ciò che riconosciamo utile. Ai giorni nostri, la cosa più utile di tutte è la negazione. Noi neghiamo. Quindi, i movimenti che si sviluppano come Terra e Libertà, Giovane Russia, sono movimenti che sempre più si caratterizzano per due aspetti. Il primo è quello di andare al popolo. C'è un episodio piuttosto simpatico. Nel 1888 Gorky, il grande Maxim Gorky, che non è stato un grandissimo scrittore, sinceramente, però è stato un grande personaggio nella Russia sovietica, va al popolo, ma il popolo non è tanto contento. La prima volta gli danno fuoco alla casa, la seconda volta lo picchiano talmente tanto che sviene perché si stava opponendo alla fustigazione di una donna, i contadini, i famosi contadini. Probabilmente Shekhov è il primo che nel racconto dei contadini vede contadini per quello che sono. Nikhilisti. Un episodio in particolare è molto importante ed è la storia di Nechayev. Nechayev è un Nikhilista, è un personaggio, un maestro che conosce Bakunin, il padre dell'anarchismo russo, all'estero, torna in Russia con una lettera di presentazione e inventa, letteralmente, di essere a capo di un'organizzazione terroristica con grandi ramificazioni di rapporti internazionali. Uno studente che si chiama Ivan Ivanovic, studente di Agraria, che fa parte di uno di questi gruppi, sono gruppi organizzati a gruppetti, cinque per gruppetto e ignorano l'esistenza degli altri gruppi. Un sistema per sfuggire all'arresto. Non ci dimentichiamo che la svolta terroristica di alcune di queste organizzazioni porterà al 1881 all'assassinio di Alessandro II che viene ammazzato con delle bombe per la strada e aveva già avuto diversi attentati. Uno, per esempio, il clamoroso nel 1866. Nechayev è molto importante. Nel 1869 fa uccidere questo Ivan Ivanovic e scappa, viene arrestato dopo due anni in Svizzera come un criminale comune, viene rimandato in Russia e viene mandato nella fortezza di Santi Pietro e Paolo. Piccola parentesi, anche il fratello più grande di Lienin viene impiccato nella fortezza di Santi Pietro e Paolo. Sì, esiste un documento, esiste per molti motivi un personaggio fondamentale Nechayev. Il primo motivo è che c'è un'idea del terrorismo e dell'azione politica che ci riporta molto vicino a quella di Lienin. La famosa vanguardia, voi sapete che la scelta fra Bolshevichi e Menshevichi era proprio questa, no? Cioè, identificare in un piccolo proletariato urbano, che era quello che si era sviluppato con la seconda rivoluzione industriale in Russia e che aveva interessato principalmente soltanto San Pietroburgo e Mosca e aveva lasciato all'asciutto tutto il resto della campagna, per i Bolshevichi era sufficiente, se debitamente istruito e professionalizzato, a fare l'avanguardia per la rivoluzione. E questa è stata la scelta vincente, almeno fino al 1989. Insomma, nel senso, c'è stato lo mio studiato. Il catechismo... L'atteggiamento dei rivoluzionali. Sì. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che la vicenda Neshayev ha ispirato un romanzo di Dostoevsky che è I demoni, o demoni che dir si voglia. Il personaggio di Versovesky è proprio lui, Neshayev. C'è un documento che è stato pubblicato da tanto tempo, ma che non è molto conosciuto, ed è il Catechismo dei Rivoluzionari. È un documento del 1871 e qui ne leggiamo alcune parti che sono assolutamente illuminanti anche del motivo come ma del motivo per il quale Neshayev, per esempio, arrivò a un grande scontro con Bakunin, che pure non era quell'angiolino che voleva sembrare. Voi sapete che, per esempio, Bakunin, quando era in galera, scrisse una lettera allo zar chiedendogli scusa, perdono e denunciando tutti i suoi amici, se è saputo molto tempo dopo. Ma Bakunin, in qualche maniera, aveva già dei principi morali. Invece Neshayev non ha nessun principio morale. Non ha nessun principio morale. Si uccide per un semplice sospetto. Non si deve dire mai la verità. Si sfrutta tutto quello che si può sfruttare. L'importante è distruggere il meccanismo statale. Prego. Io leggerò a Balzelloni perché... Il rivoluzionario è un uomo perduto in partenza. Non ha interessi propri, affari privati, sentimentali. Proprietà. Non ha neppure un nome. Un unico interesse lo assorbe e ne esclude ogni altro. Un unico pensiero, un'unica passione. La rivoluzione. Nel suo intimo, non solo a parole, ma nei fatti, egli ha spezzato ogni legame con l'ordinamento sociale e con l'intero mondo civile, con tutte le leggi, gli usi, le convenzioni sociali e le regole morali di esso. Il rivoluzionario è suo nemico implacabile e continua a viverci solo per distruggerlo con maggior sicurezza. Egli disprezza l'opinione pubblica, disprezza e detesta la morale vigente nella società in ogni suo motivo e manifestazione. Per lui è morale tutto ciò che contribuisce al trionfo della rivoluzione. Il morale criminale è tutto ciò che l'ostacola. Il rivoluzionario è un uomo perduto, spietato, verso lo Stato, verso la società istruita in genere. Da esse non deve dunque aspettarsi nessuna pietà. Fra lui da una parte, lo Stato e la società dall'altra, esiste uno Stato di guerra, visibile o invisibile, ma permanente e implacabile. Una guerra all'ultimo sangue. Egli deve imparare a sopportare la tortura. Duro verso se stesso deve essere duro anche verso gli altri. Tutti i sentimenti teneri che rendono effeminati, come i legami di parentela, l'amicizia, l'amore, la gratitudine. Per lui non esiste che un'unica gioia, un'unica consolazione, ricompensa e soddisfazione. Il successo della rivoluzione. La natura del vero rivoluzionario esclude ogni romanticismo. Esclude anche l'odio e la vendetta personali. La passione rivoluzionaria, diventata in lui una seconda natura, deve in ogni momento essere unita a un freddo calcolo. Dovunque e sempre, e gli deve essere sempre, non ciò che lo incitano le sue tendenze personali, ma ciò che l'interesse generale della rivoluzione gli prescrive. Un pezzettino di un altro, dell'atteggiamento del rivoluzionario verso i suoi compagni di rivoluzione. Quando un compagno è in pericolo, il rivoluzionario, nel decidere se salvarlo oppure no, deve prendere in considerazione non i sentimenti personali, ma solo il bene della causa rivoluzionaria. Di conseguenza, egli deve valutare da una parte il contributo portato da questo compagno e dall'altro il dispendio di forze rivoluzionari necessarie per salvarlo, secondo come penderà la bilancia, deciderà. Con tutt'altra moralità, ma sono le cose che Lenin dice del proprio gruppo, cioè dei professionisti che devono essere votati esclusivamente al trionfo della rivoluzione. Il personaggio, voi sapete, Dostoevsky, vabbè, non credo si debba dire niente su Dostoevsky, forse sapete tantissime cose se siete dei lettori, una delle cose che segna maggiormente la vita di Dostoevsky quando viene arrestato nel 1849 per semplicemente, così, perché fa parte di un circolo che non è proprio allineato con la linea dello zar, viene portato davanti al plotone di esecuzione e sebbene la grazia sia arrivata già il giorno prima, gli fanno finta di fucilarlo e poi gli danno la grazia. Lui dedicherà a questo tema del complotto tantissime pagine. I demoni o demoni è il romanzo centrato proprio sull'episodio che dicevo prima di Nechayev ed è la storia di un gruppo di terroristi, perché non si parla di rivoluzionari, sono terroristi perché l'obiettivo è solo quello di distruggere, infatti una delle scene più famose è quella dell'incendio, non ci dimentichiamo che nel 1861 Mosca era stata data alle fiamme e c'è per esempio Bazarov in Padri e figli che dice che per distruggere basta un fiammifero che costa un coperco e quindi si poteva fare. Nei demoni il personaggio di Versoveschi incontra, crea insieme a Stavrogin che è semplicemente un personaggio che si annoia e che quindi partecipa a questa specie di mascherata solo perché si annoia e si deve uccidere un uomo, Shatov, che è un personaggio che viene accusato di aver fatto la spia. È una storia molto complessa, quindi la sto stringendo veramente. Chi è che uccide Shatov? Lo uccide uno che per dimostrare che non ha paura di niente si suicida. La distruzione del potere che ha la paura rispetto al suicidio e si chiama Kirillov, una specie di delitto perfetto perché si ammazza questo personaggio e poi si fa lasciare a Kirillov una lettera nella quale lui si prende la responsabilità del delitto. Ora Stefano legge un pezzettino dagli demoni. Vedete, in senso stretto, io non appartengo affatto a questa società. Non vi appartenevo nemmeno prima. Ho molto di più di voi il diritto di abbandonarli perché non vi sono mai entrato. Al contrario, fin dal principio avevo dichiarato che non ero un loro compagno e se li ho aiutati qualche volta è stato così per ozio. Ho partecipato in parte alla riorganizzazione della società secondo il nuovo piano e basta. Ma ora ci hanno ripensato, hanno deciso che sarebbe stato pericoloso lasciare andare anche me e a quanto pare anch'io sono condannato. Oh, sempre con queste loro condanne a morte, quei decreti su carta sigillata e le firme di tre persone e mezzo. E voi credete che siano in grado di farlo? Qui in parte avete ragione, in parte no, continuò Stavarovini, con l'indifferenza di prima. Senza dubbio c'è molta fantasia, come sempre in questi casi. Il gruppo esagera la sua grandezza e la sua importanza. Se volete saperlo, secondo fra me e loro esiste soltanto Verschensky, che è troppo buono quando si considera soltanto un agente della società. Del resto l'idea di base non è più stupida di altre del genere. Hanno dei rapporti con l'internazionale, sono riusciti a procurarsi degli agenti in Russia, hanno trovato persino un sistema abbastanza originale, ma si intende solo in teoria. Per quel che riguarda le loro intenzioni qui, lo sviluppo della nostra organizzazione russa, è un fatto così oscuro e quasi sempre così inatteso che effettivamente da noi si può provare tutto. Voi lo conoscete poco. È vero che in generale non capiscono molto della Russia, ma soltanto un pochino meno di noi due. Inoltre, Verschensky è un entusiasta. Verschensky un entusiasta? Oh sì! C'è un punto dove egli smette di essere un buffone e si trasforma in un mezzo pazzo. Vi prego soltanto di ricordare una vostra frase. Sapete quanto può essere forte un uomo solo? Per favore, non ridete. È perfettamente in grado di premere il grilletto. Loro sono convinti che anch'io sia una spia. Non sapendo portare avanti la causa, amano terribilmente accusare di spionaggio. Vi leggo una cosa, un fa un giochino. Mi dite chi è. Cos'è l'uomo? Non è affatto un essere compiuto o armonioso. No, è una creatura ancora molto goffa. L'uomo, come animale, non si è evoluto secondo un piano, ma spontaneamente e ha accumulato molte contraddizioni, sembra Dostoevsky. Il problema di come coltivare e disciplinare l'edificazione fisica e spirituale dell'uomo, di come migliorarla e portarla a compimento, è un problema colossale che può essere compreso solo sulla base del socialismo. Possiamo costruire una ferrovia attraverso il Sahara, possiamo erigere la Torre Eiffel e parlare direttamente con New York, ma di sicuro non possiamo perfezionare l'uomo. E invece lo possiamo. Produrre una nuova, perfezionata versione dell'uomo, sembra Blade Runner. Ecco il compito del comunismo. E a questo fine dobbiamo scoprire tutto sull'uomo, sulla sua anatomia, la sua fisiologia e quella parte della fisiologia che si chiama psicologia. L'uomo deve considerare se stesso come una materia prima o al più un semilavorato e dire finalmente, mio caro Homo sapiens, lavorerò su di te. Questo è Trotsky, questo è Trotsky, ma è dall'illuminismo che arriva direttamente questa idea, questa idea della possibilità di cambiare completamente l'umanità. Non ci dimentichiamo che Bauman scrive un saggio proprio sui rapporti tra l'illuminismo e la Shoah e imputa all'illuminismo l'idea folle dell'uomo di poter creare il mondo come un giardino estirpando le erbe che non gli sono gradite. Queste erbe, secondo Hitler, si chiameranno ebrei, secondo Stalin si chiameranno in un'altra maniera. Il giochino poi si fa su questo, sì. Questo era troppo difficile. Siamo stretti. Siamo stretti. No, ma ce la facciamo. 1889 esce un romanzo, forse il peggiore di Tal Stoi, che è Ressurrezione, perché è un romanzo un po' attese, sinceramente, dopo Guerra e Pace. E lui è già nella fase down, non vuole più scrivere. che morirà nel 1910, ma ormai ha la sua comunità, ha tutte le sue teorie sulla religione, no? La religione senza Dio, ma senza Gesù Cristo, eccetera, 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 eccetera. Scrive Ressurrezione. Perché è interessante? Perché Nechludov, il personaggio principale, decide di seguire in Siberia la ragazza che lui da giovane ha inguaiato e che poi ha riconosciuto mentre faceva il giurato in tribunale. E qui ci sono dei personaggi che facevano parte di questo gruppo che si chiama, appunto, Narodni, ovvero andare al popolo. E racconta una storia abbastanza oceanica. Perché il riconoscimento della proprietà privata ha realmente danneggiato l'individualismo, lo ha oscurato, confondendo l'uomo con ciò che possiede e lo ha interamente sviato, dandogli per scopo il guadagno e non il progresso delle sue finalità. Così, per l'uomo, la cosa importante è avere, mentre non sa che quel che è importante è essere. La vera perfezione dell'uomo consiste non in ciò che egli ha, ma in ciò che egli è. La proprietà privata ha offuscato il vero individualismo e ha messo al suo posto un individualismo del tutto falso. Ha impedito a una parte della comunità di essere individuale, affamandola. Ha impedito all'altra parte di essere individuale, mettendola sulla cattiva strada ed ostacolandola. È per vero la personalità dell'uomo è stata tanto assorbita dal possesso che la legge inglese, vi aiuta, ha sempre trattato con maggiore severità le offese fatte alla proprietà che quelle recate alla persona. E la proprietà è sempre il saggio della completa cittadinanza. Con l'abolizione della proprietà privata, noi possiamo realizzare il vero, il bello, il sano individualismo. Nessuno sprecherà la sua vita accumulando cose e simboli di cose. Si vivrà e vivere è la cosa più rara al mondo. Molta gente non vive, esiste, questo è tutto. Avete tre possibilità. È Oscar Wilde. Lui scrive nel 1891... Secondo me lui ce l'ha inserita dentro. No, 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 giuro, potete controllare. Saggio sull'umanità sotto il socialismo. Lui dice, se il socialismo non diventa una caserma in cui tutti si deve controllare che la gente si comporti per bene, si può arrivare alla liberazione vera. Immaginatevi un dandy come Oscar Wilde, con i pantaloncini, la zuaba, tutti i suoi trucchetti, eccetera, eccetera, che dice una cosa così, che è una cosa bellissima. Mi direte, sono 20 pagine su 1500, in quell'altro 1380 dice tutte altre cose, in trattato di Dorian Gray. Però era un piccolo omaggio a una persona che è morta, schiacciata dalla sua personalità, quando invece era una personalità molto più sfaccettata. Ci rimane... Però Ivan Illich era... Come? No, no, no. Avetevi a essere di fronte, eh? Sì, sì. Sì. Allora, ci rimane da citare tre cose. La prima, 1905, è la prima rivoluzione. Su questo non ci piove. È legata a una guerra anche questa, la guerra persa miseramente contro il Giappone, che è uno staterello piccino così, mentre la Russia è un gigante così. Ricorda un po' la guerra franco-frussiana, dove la Prussia in pochi giorni arriva a Parigi. Stessa situazione. La Russia è già stata umiliata nella guerra di Crimea, nella guerra contro i turchi, una buscata di santa ragione e quindi i russi perdono sempre più stima nell'apparato, eccetera, eccetera. Ma resiste ancora, ancora, in tanta parte della popolazione una fiducia fantastica nello zar. C'è un piccolo romanzo, non è proprio piccolo, un romanzo di Maxi Gorky, che si intitola Un uomo inutile, che è La storia di uno che diventa una spia nel 1905 e che ci dice due cose. La prima, c'è una pagina bellissima nella quale ci sono delle persone che gli dicono a lui bisogna scrivere allo zar, perché lo zar queste cose non le sa. Tutta la gente intorno a lui, no, ripensate anche a uno come Raspus, quando successivamente gli daranno la colpa di aver fatto le peggio neffandezze, perché il povero zar non era consapevole, era stato ipnotizzato addirittura, pensate quanto resistente è una cosa del genere. La seconda cosa è interessantissimo, sto facendo qualche troiaio io, eh? Compagno Tavarish, Marcello, un, due, tre, prova, Marcello, sto facendo qualcosa, è il filo, dici? Vabbè, no, sto fermo, sto fermo, così qua, immobile. Volevo dire, la seconda cosa importantissima è questa, parla degli agenti provocatori che furono veramente tantissimi nel 1905. Il filo è un confronto. A gennaio, no, con Razzata Potionchi, fino a ottobre che viene, come si dice, riconosciuto il diritto al popolo russo di avere una Duma, cioè un Parlamento che poi sarà una pagliacciata clamorosa e porterà alla rivoluzione del 17 di cui parleremo la prossima volta. Gli agenti, il protagonista, un uomo che ha subito le peggio angherie durante la sua infanzia e per vendicarsi diventa un agente provocatore e è una cosa molto interessante perché è un punto di vista veramente molto originale. Poi vorrei parlare del romanzo di Belli. Belli è un poeta, un modernista russo piuttosto famoso, amico di Majakowski, amico di un sacco di cose e vi chiederei di ascoltare questo brano tratto dal libro Pietroburgo, scusate, pubblicato da un editore di cui non posso fare il nome ma è lo stesso di prima perché... La devi smettere di fare la pubblicità alla Delfi. Lo dico perché... Lo sappiamo che Calasso ti paga. Lo dico perché costano un monte di soldi questi libri, 25-28 euro, io non so come fare e in biblioteca non si trovano, era solo una lamentazione così pubblica. So che a Torino la gente è buona, magari ci lasciano un euro dopo per ripagare e sentite la differenza anche di prosa proprio, come scrive, siamo nei 1905, quindi siamo in pieno avvicinamento all'età delle avanguardie, no? Pensate a Majakowski, pensate a Mandelstam, a Maizieni, in Bloch, pensate a tutta questa gente qua, a Akhmatova, tutti, le cito tutti, Akhmatova è la prima perché in A, prego. Si riversavano sulle strade Berretti di Pelliccia venuti dalla Manciuria, scusami, siamo nel 1905, non so se l'avevo detto, 1905 a San Pia Tributo. Si riversavano sulle strade Berretti di Pelliccia venuti dalla Manciuria, stai fermo perché sennò ti senti muovere, perdendosi tra la folla, ma la folla continuava a crescere, individui in Berretti di Manciuria muovevano in direzione di un tetroedificio dalla cima rosseggiante, presso il tetroedificio la folla era composta soltanto di individui in Berretti di Manciuria e premevano, premevano contro le porte, premevano, e come altrimenti, l'operaio non ha tempo per le cerimonie, c'era un'aria cattiva. Lungo l'angolo, accanto al marciapiede, sudava in gran confusione un distaccamento di polizia, il brigadiere che lo comandava era confuso anche lui, grigionnolo in un pastrano grigionnolo, gridava ogni tanto degli ordini alzando rispettosamente la sciabola, tenendo gli occhi abbassati e alla sua schiena aggiungevano commenti, rimbrotti, risate e persino ai ai, oscene ingiurie da parte del borghesuccio Ivan Ivanovich, dalla consorte di lui, dal mercante della prima corporazione, il quale si trovava a passare ed era insorto con gli altri ed il brigadiere gridava ogni tanto degli ordini circolare signori, circolare, con più insistenza sbuffavano dietro una palizzata a cavalli dalle zampe vellose. Di dietro, ai denti, di Travis puntava ai tratti una testa, un berretto di pelo ad alzarsi fin sopra la palizzata. Si sarebbero visti degli uomini condotti quasi dalle steppe che con le loro nagica nel pugno e la bocca del fucile sulla schiena si rabbuiavano saltellando sulla sella dall'impazienza e anche i cavallini pelosi saltellavano. Era questo un reparto di cosacchi di Orenenburger. Nell'interno dell'edificio incombeva una torbidezza di zafferano rischierata da candele. Non vi si poteva discernere altro che corpi, corpi, corpi e corpi piegati, semicurvi, appena appena piegati e non piegati affatto. Quei corpi sedevano, stavano in piedi all'intorno occupando la gradinata fuggenti ad anfiteato e non si vedeva la cattedra. Nello spazio ululava un uuuh prolungato e attraverso l'uuh a tratti echeggiava rivoluzione, evoluzione, proletariato, sciopero e di nuovo sciopero e ancora sciopero e l'uuh andava crescendo. I discorsi vertevano tutti sul fatto che in quel posto e in quell'altro e in quell'altro ancora lo sciopero era già cominciato. Che in quel posto e in quell'altro e in quell'altro ancora lo sciopero si preparava e perciò bisognava anche qui scioperare, scioperare all'istante e non muoversi. La storia di questo romanzo è una trama molto semplice. È la storia di un uomo che non si sa bene per quale motivo ha giurato di commettere un attentato e gli viene chiesto di compiere questo attentato peccato che la vittima dell'attentato dovrà essere suo padre. Metaforicamente però è veramente un romanzo che ci introduce nell'ambiente della rivoluzione cioè i padri che vengono ammazzati dai figli e questo più rivoluzionario di questo è una generazione di intellettuali che poi parteciperà con grande entusiasmo con grande entusiasmo alla rivoluzione. La prossima volta parleremo delle voci del 17 volevo solo segnalarvi che Tolstoi nonostante non brilli per coerenza però poi scriverà degli articoli molto importanti sugli scioperi del 1905 e prenderà posizione contro la repressione prenderà posizione anche contro i rivoluzionari perché sarà ormai infilato nella sua mistica dell'amore pastorale eccetera 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 aveva avuto 29 figli lo sapevi che ora io manderei la corazzata Potionkin sulle alcune pezzi di un poema la parte sinistra e la parte destra te leggi quella in italiano che quella in russo non ti riesce scritta da Pasternak perché noi conosciamo Pasternak per il dottor Zivago giustamente perché è un capolavoro di cui parleremo perché ci sono grandi legami con la storia della rivoluzione e la guerra civile ma Pasternak soprattutto almeno all'inizio era un grande poeta imitato e amatissimo scrive un poema che si chiama proprio 1905 e c'è un pezzettino dedicato alla corazzata Potionkin io vorrei chiudere sulle immagini del grande maestro e la voce stentoria e bellissima di Stefano grazie di esistere ti ringrazio bene per la foschia galvanica delle nubi scompigliate goffamente strisciando barcolloni si fanno strada nel porto alle navi fulmini dalle gambe turchine come ranocchie saltellano in un puzzo attrezzi spilungoni sono scaraventati da ogni lato tutto si preparava a prendere sonno e si arrampicava i granchi e verso il centro dal sole appesantito si piegavano le testine delle lappole il mare faceva le fusa ad una versta e mezza da tender il grigio tronco di una corrazzata con schizzi arancioni screziando il sole tramontò e all'improvviso di luce elettrica sfolgorò la potronchi dalla cambusa alla plancia irruppe un'orda di mosche la carne puzzava di putrido e sul mare caddero le tenebre la luce borbottò sino all'aurora e ai primi albori si spense lastre di mareggiata mattinale scivolarono come rasoi di mercurio lungo il piedistallo della mole e guardandolo dall'alto cominciò a respirare e a rianimarsi la corrazzata cantata la preghiera cominciarono a lavare la tolda portarono in mare i bersagli a pranzo non sedettero al pasto comune e mangiavano in silenzio pane ed acqua quando ad un tratto eccheggiò tutti al cassero ciascuno al proprio posto i due turni di quarto e un tale in casacca merendo di bile urlò con stizza attenti da una bitta d'orneggio minacciando settecento fermento chi vuol mangiare in cambusa chi non vuole al pennone march le vedette impetrarono un grido di meraviglia all'improvviso insieme si lanciarono tutti nel subbuglio dalla bitta di corsa alla batteria fermatevi basta esclamò in bestialito l'apostolo della minestra parte dei fuggenti restò indietro egli tagliò loro la strada di nuovo intrighi poi diede il comando nostromo la tela incatramata sentinella a cerchiarli gli altri nascostisi in folla nella torre blindata aspettavano atterriti il supplizio che stava per sopraggiungere la strada l'apostolo